Io credo in quello che vuoi fare. Hai detto delle parole molto lusinghiere. Ma onesto, è un modo di vedere le cose, però... Quello che mi chiedi è impossibile. Perché? Impossibile è rapinare la banca di Spagna? Non ti sto chiedendo di fare il padre se non vuoi. Ti sto chiedendo una donazione per fare le cose in modo diverso. Senza vincoli. Nairobi, ascolta, io ho organizzato la rapina alla zecca di Stato in memoria di mio padre. E questa in memoria di mio fratello non... Non sono una persona che si svincola. Non smetterei di pensare un solo giorno della mia vita che ho un figlio là fuori, in qualche parte del mondo. Già. Già. Mi dispiace. Tu hai costruito questa famiglia e tu ci hai insegnato a fare tutto l'uno per l'altro. Nairobi, ma quello che mi stai chiedendo... Quello che ti sto chiedendo è la stessa cosa. Perché la famiglia si aiuta senza fare domande. Perché ti rende felice. Perché è in gioco la tua vita. Tu hai il tuo piano, vero? Anche io ho il mio piano. E tu mi hai insegnato che tra noi ci aiutiamo. Noi siamo fatti così. Agatha. Io ti ho chiesto cose più complicate. Direi proprio di sì. E io mi sono messa nella tana del lupo senza fare domande. Lo so. Ti ho chiesto cose molto pericolose. Molto. Molto più di quello che mi stai chiedendo ora. Mi stai dicendo di sì? Mi stai dicendo di sì? Mamma mia. Mamma mia. Vieni qui. Grazie. Grazie. Ti giuro che non ti pentirei mai di questa decisione. Troveremo la migliore clinica di fecondazione artificiale. O se preferisci lo facciamo con il metodo naturale. Il metodo naturale è totalmente escluso. Va bene. Ci metteremo in mano a dei professionisti, d'accordo? Sì, va bene. E solo dopo la rapina. Va bene. Ma sarà grandioso.